Proseguono i dati drammatici referiti al mondo del lavoro piacentino. Nei primi cinque mesi del 2013 le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate sono state 2,5 milioni, tornando così sui livelli del 2011 dopo un leggero miglioramento nello scorso anno. Ad essere particolarmente allarmante è la situazione della cassa integrazione straordinaria, ossia lo strumento che le imprese hanno messo in campo generalmente dopo aver esaurito la cassa ordinaria. Nel periodo gennaio-maggio 2013 sono state autorizzate 1.450.000 ore di straordinaria, un record negativo mai toccato nella nostra provincia. Si tratta infatti di mezzo milione di ore in più rispetto allo scorso anno, addirittura 150.000 in più del 2010, anno di esplosione della crisi. E se si pensa che la cassa straordinaria, che può durare 24-48 mesi, di solito è l'anticamera della mobilità, quindi dei licenziamenti, si capisce come il quadro economico e occupazionale locale sia davvero pessimo. Nei primi cinque mesi dell'anno in corso la cassa integrazione ordinaria è invece leggermente salita e si è drasticamente ridotta la cassa in deroga.